Oggi andiamo quindi a cercare del tartufo, sono a Savigno comuni di Vassamoggia, sono nelle colline bolognesi e per fare questo ho bisogno di un tartufino, quindi coloro che ricercano il tartufo che sono ovviamente non soli ma accompagnati dal loro ausiliare, il cane da tartufo, sono con Alessandro Bartolini, tartufino, buongiorno Alessandro, che oltre che essere un tartufino è anche agricoltore, titolare dell'azienda agricola Torricella e anche l'agriturismo Mastro Sasso, poi ci racconterai un po' anche le caratteristiche di questa azienda, che ha anche delle propaggini nelle Marche, se non ricordo male, nell'Umbria, perché la mamma viene dall'Umbria e quando si è trasferita qua e quando dopo è andata a dividere tutta la roba del nonno con i suoi fratelli, noi abbiamo mantenuto un piccolo terreno dove c'è una coltivazione di olive, dove noi facciamo anche l'olio giù e poi lo portiamo qua e lo usiamo nel nostro agriturismo finché ce n'è. Quindi, insomma, abbiamo anche l'olio. Torniamo qua a Savigno. Savigno è territorio conosciuto per il suo tartufo bianco, quindi il principe dei tartufi. Partiamo innanzitutto dall'annata. Quest'anno è un'annata buona oppure no? Allora, quest'anno è un'annata buona, ma da adesso, perché è partita un po' lenta, all'inizio sembrava che ci fosse qualcosa, poi invece c'era tutto fiorone, roba che ancora non era di grande qualità e invece adesso con l'alumna nuova, già da questa settimana si è iniziato a trovare del tartufo, anche delle palle discrete e abbiamo una buona prospettiva. Lei si chiama? Il cane si chiama Ven. È un lagotto romagnolo, ha due anni e mezzo, è ancora un cucciolo e ha bisogno ancora di imparare tante cose, perché un cane raggiunge la sua maturazione dopo 4-5 anni, poi con più passa il tempo, avendo sempre più esperienza, il cane diventa sempre più bravo e non bisogna mai avere paura di portarlo fuori, perché quando tu porti fuori il cane, tutti i giorni impara qualcosa. Quali sono gli strumenti del tartufino? Perché io vedo che hai il... Sì, ci sono... Questo è il vanghetto, no? Il vanghetto classico, originale. Abbiamo un'altra cosa, quando hai bisogno di passare attorno delle radici, sono tutti attrezzi che anche un po' fatti in casa, diciamo, recuperati. Poi ci sono un paio di forbici, che se magari il cane trova un tartufo dentro un rovo, un qualcosa, c'è la possibilità di doverlo raggiungere, perché tante volte è anche nel fitto il tartufo, non è solo sotto le piante, così come si vede qua, belle. Senti Alessandro, stiamo parlando del bianco, ma c'è anche tanto nero, suppongo. C'è anche tanto nero. Un po' meno presato, però altrettanto buono. Sì, buono. Adesso gli si sta dando un valore in cucina, con diverse alternative di piatti, per, diciamo, avere un po' il tartufo tutto l'anno, perché con il nero, con il nero pregiato, lo scorzone e a ottobre, novembre, dicembre, con il tartufo bianco pregiato, abbiamo, diciamo, quasi una panoramica, diciamo, di un prodotto tutto l'anno. Come viene regolamentata la raccolta del tartufo? Ma la raccolta del tartufo è regolamentata che, innanzitutto, per poterci andare, devi sostenere un esame, per poter avere un tesserino regionale, che poi diventa nazionale, perché devi avere una certa formazione, una formazione che vuol dire non devi trascurare, rovinare le piante, non devi, quando fai la raccolta del tartufo, non devi fare tanti buchi, li devi tornare a chiudere, devi cercare di non rompere tanto l'apparato radicale, perché è importante che torni a dare il tartufo, perché la pianta, la radice, dà il tartufo. Quindi tanti accorgimenti che servono anche per preservare e soprattutto per non, diciamo, compromettere la produzione dell'anno successivo. Esattamente, perché se tutti noi siamo bravi a, diciamo, salvaguardare il bosco, cercare di tenerlo pulito, che tra l'altro si sono formati anche delle associazioni, hanno fatto dei consorsi, hanno riservato delle aree dove viene anche tenuto dietro al bosco per pulirlo, viene gestito, certamente. Senti, come si capisce che il cane ha individuato il tartufo? Quando individua il tartufo lo vedi che si ferma e poi a volte ti guarda e poi inizi a scavare, a quel punto lo fermi, lui si dovrebbe fermare, tante volte secondo anche di come è l'impeto che ha e cosa pensa ci sia sotto, lui, diciamo, ecco guardate, adesso lui è già in ricerca, dov'è venì, guardaci pure, cosa c'è ci c'è, cosa c'è ci c'è, cosa c'è c'è, cosa c'è lì, mostra interesse, mostra interesse e forse perché è una zona che l'ha levato un'altra volta e allora i cani sono molto, hanno una grande memoria per cui dove hanno levato il tartufo altre volte loro ci ritornano e lo vanno a vedere e tante volte ce n'è un'altra e tante volte anche quando passi ad andare su e quando torni giù torni a trovare il tartufo. Alessandro proseguiamo nella ricerca e seguiamo la cagnetta che è quella che è quella che ci porta sul posto. Sì, è il momento della luna buona e ci dovrebbe essere qualcosa anche anche se stamattina sono già passati perché ho già visto che hanno fatto diversi buchi e tu hai già hai capito che qualcuno... Sì, sono già passati, qualcuno ha già trovato. Anche il cane, quando hai un cane adesso magari lei è un pochettino distratta da queste cose perché noi siamo abituati ad andare sempre via io e lei per cui c'è una simbiosi tra me e lei che ci parliamo, ci parliamo perché io dico lei, lei mi guarda, gli dico cosa deve fare per cui è una cosa... Quando tu riesci ad avere il cane che fa quello che dice te non devi avere problemi che il tartufo prima o poi lo trovi. Bisogna instaurare un feeling con il cane. Sì, devi essere in simbiosi con il cane, diventa come... Ciccia, vieni qua, vieni qua, guardaci qua, guardaci pure qui, guardaci pure, dove? Dove Ciccia? Guardaci pure, non farla sciocca. Dai, perché quando io la spingo magari lei vuole il premio allora le prime volte... Allora simula, simulala. Vieni, vieni! Vieni! Perché è molto importante il premio per i cagnetti, è molto importante. Guardaci pure dove, guardaci pure, da brava dai, guardaci pure, per bene dai. Dove Ciccia? Dove Ciccia? Brava Ciccia! Io l'ho visto che qui... Vediamo un po' cosa esce. Vanghetto indispensabile, eh? Bisogna fare attenzione anche per non rovinarlo. Dove Ciccia? Fa vedere, vieni, fa vedere dov'è. Vieni qua Ciccia, dove? Dove? Fa vedere. Dove? Dove? Dove Ciccia? Dove? Piano, piano, ferma. Fermati. Fa vedere, dove? 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 Dove Ciccia? Dove Ciccia? Dove? Dove? Eh? Ferma. Brava Ciccia, brava, 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 brava Ciccia, brava, brava Ciccia. Ecco, adesso va premiata perché ha trovato la voce. Brava Ciccia, brava. Cosa gli si dà? Brava. Io, allora, normalmente gli si dà le crocchette, però lei essendo giovane ha bisogno... Eccolo qua. È anche una bella pallina. Brava Ciccia, brava. Essendo giovane ha bisogno anche di essere, diciamo, sostenuta e fargli vedere che questo è, e i primi premi io gli do un po' di mortadella. Allora, questa è una noce... Questa è molto, è molto bella. Eccola qua, magari... Eh, ci è arrivata con un'unghiata qua, vedi? Questo può succedere, insomma. Eh, questo può succedere, perché quando le orla sento l'hai visto che inizia più con fuga, perché... Se puoi lasciarla sulla mano che è a favore di telecamera, eccola qua. Più o meno quanti grammi sarà una noce di tartufo? Questa è circa 20 grammi. Qual è il tartufo più grande che hai trovato durante la tua carriera di tartufino? Il tartufo più grande io sono... Non è tantissimo. Comunque ho trovato una palla che era 150 grammi. Enorme. E diciamo, non è tra le più grandi. C'è, diciamo, dei miei amici che... Però è già una bella palla, perché poi, quando vai oltre, si trova una... Però bisogna andarci sempre. Io, diciamo, ci sono stato tanto tempo fa e poi mi sono dedicato negli ultimi anni a questa cosa. Senti, io osservavo quando hai raccolto dopo il tartufo che tu hai ricomposto la buca, quindi hai sistemato il terreno. Questo è una delle cose che bisogna fare sempre una volta trovato il tartufo. Allora, una cosa che devi fare è quella di andare a ripristinare il terreno in maniera che l'apparato radicale venga ricoperto, di non andare a portare via delle cose. Raccogli il tartufo e poi il resto li cophi. Poi è importante anche, in certe aree che magari sei un po' geloso o cosa, andare a ricoprire e anche riportare sopra... Per evitare che altri possano... I rami che possano vedere o anche capire che... Perché tanto anche quelli che sono fuori hanno i cani, per cui, diciamo, se c'è qualcosa lo sentono, però magari se vedono un raspato, un'altra volta che passano da un'altra zona, lì ci fanno un giro perché dicono, lì hanno levato il tartufo. Senti, Alessandro, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità. Certo. Continuiamo dopo a parlare di tartufo. Intanto tu lo riponi dentro un sacchettino, questo preziosissimo raccolto. Un sacchettino che deve stare qua. Un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'.